Eccoci di nuovo insieme. Oggi voglio tornare a parlare di libri ed in particolar modo voglio parlarti di tre libri che ho letto nel mese di novembre. Ciao, se non mi conosci io sono Angelo. In questo canale ti parlo di psicologia, autostima, crescita personale. Qui cerco di condividere con te delle strategie utili per riuscire ad affrontare i problemi quotidiani attraverso piccoli suggerimenti psicologici. Se ti interessano questi argomenti, se ti interessa la crescita personale, devi assolutamente iscriverti al mio canale e mi raccomando non dimenticare di cliccare sulla campanellina delle notifiche, così riceverai un avviso ad ogni nuovo video. Da qualche mese ho aperto una nuova rubrica nella quale parlo di libri. In particolar modo voglio presentarti ad ogni incontro tre libri che io ho letto nel mese precedente. Oggi ti parlerò di tre libri che ho letto a novembre. In questi libri ci sono alcune sorprese positive e alcune delusioni. Ma iniziamo subito. Il primo libro di cui voglio parlarti è il piccolo manuale per imparare a fare e a ricevere critiche. Io l'ho comprato in formato digitale. Questo è chiamato un piccolo libro, ma io lo ritengo invece una grande risorsa di suggerimenti. Come dice il titolo stesso, in questo caso l'autrice ha dedicato la sua attenzione alla critica, in particolar modo come fare e ricevere critiche. Una cosa molto interessante di questo libro è che l'autrice è andata ad indagare quali sono gli aspetti psicologici che impediscono alle persone di fare o di ricevere critica. Il conoscere qual è la dinamica psicologica che c'è dietro la critica, il fare la critica, permette alle persone di sbloccare questa capacità, diciamo, dal profondo. Altra cosa molto molto interessante di questo libro è che è essenzialmente pratico. L'autrice semina durante tutta la lettura piccoli ma utilissimi suggerimenti per imparare a fare e a ricevere critiche, a gestire le proprie emozioni, ma anche la rabbia altrui. Il libro è essenzialmente pratico nonostante vi siano delle parti nei quali approfondisce, come ti ho detto, alcuni aspetti psicologici. La cosa che mi è piaciuta molto di questo libro è la semplicità del linguaggio e di come l'autrice spiega tutto in maniera così chiara e anche schematica che rende il testo proprio manuale d'uso, come fare praticamente delle critiche o riceverle. In alcuni punti l'autrice suggerisce anche quali frasi utilizzare. Consiglio questo libro a tutte quelle persone che hanno difficoltà nella comunicazione, nell'esprimere le proprie esigenze, nel dire no, nel mettere un sano confine tra sé e gli altri. Qui trovate delle scalette chiare su come fare. A questo libro ho dato un bell'otto, otto e mezzo. Il secondo libro che ho letto a novembre è L'arte della lentezza. Trovare il tempo per sé in un mondo sempre in corsa. Qui, come dice il titolo stesso, il tema principale è il rallentare, la lentezza. L'autrice qui spiega quali sono le conseguenze della nostra vita sempre di corsa. Questa vita fatta di una successione di impegni che però non ci permette di godere pienamente delle esperienze. Questo libro spiega che cos'è la consapevolezza del presente, ci spiega come andare più lentamente. Una cosa interessante del testo è che l'autrice sostiene di aver utilizzato il termine lentezza per una questione più poetica, quando il termine più giusto sarebbe quello di decelerazione. Questo termine infatti esprime in maniera chiara il processo che noi dobbiamo attuare nel rallentare i nostri ritmi. Nel testo troviamo tanti esercizi per riuscire a rallentare le nostre abitudini quotidiane. Si parla anche dei benefici del rallentamento, dei benefici della consapevolezza del presente. Una cosa che mi ha incuriosito molto di questo testo si trova nella parte finale, dove l'autrice spiega chiaramente che nel mondo esistono tantissime correnti che promuovono la lentezza. Noi in Italia conosciamo lo slow food, in verità esistono tantissime altre correnti slow, per esempio parla del slow applicato alla cosmetica, oppure delle città completamente slow, quindi modi di vivere improntate al rallentamento, improntate alla consapevolezza del presente e in generale ad un approccio più consapevole alla vita. Arriva persino a parlare che esiste nel mondo una corrente dello slow sex, cioè come applicare i principi della consapevolezza della lentezza anche nei rapporti intimi. Libro molto molto interessante per le persone che si rendono conto di essere travolte dagli impegni e dallo stress. Questo libro vi aiuta a decelerare tirando un freno a mano. Il libro è molto interessante e utile, il mio punteggio è 8. Il terzo libro è vivere e amare, guarire dal passato, abbracciare il presente, creare il futuro ideale. Gli autori sono Philip Zimbardo e Rosemary Sworth. Devo dire che mi sono approcciato a questo libro visto il nome dell'autore, Philip Zimbardo. Questo nome per tantissimi di voi non vorrà dire nulla, ma per uno psicologo dice tanto. L'autore Zimbardo è un famosissimo psicologo sociale e tutti gli psicologi all'università si sono confrontati con il suo nome. Probabilmente il suo nome ha elevato in me le aspettative riguardo questo testo. Il libro ci parla del rapporto tra i traumi del passato, e la vita del presente. Gli autori in questo libro propongono la loro terapia, la terapia basata sulla prospettiva temporale. Grazie a questa terapia gli autori sostengono di aiutare le persone a far superare i traumi del passato e vivere consapevolmente il presente progettando in maniera costruttiva il futuro. I temi trattati sono tantissimi, dal bullismo fino allo stracismo, fino a come applicare la prospettiva temporale nella sessualità. Gli autori nel libro, oltre a parlare della loro terapia e di come applicarla ai traumi del passato, affrontano tantissimi argomenti, tra cui la comunicazione assertiva ad esempio. Devo dire però che la sensazione che mi ha lasciato questo libro è una cozzaglia di tantissime indicazioni e suggerimenti differenti. Per quanto possano essere suggerimenti utilissimi, assolutamente validi, però mi è sembrato come se volessero agganciare al tema principale altri argomenti e un po' come volerceli ficcare per forza in questo libro. Quindi tanti argomenti sono interessantissimi da approfondire, da conoscere, ma tanti altri potevano semplicemente essere eliminati dal testo e il libro non avrebbe perso nessun valore. In generale sono rimasto un po' deluso da questo libro e non lo trovo particolarmente utile per uno psicologo. Sicuramente tante indicazioni su come affrontare i traumi, su come superare le difficoltà del passato possono essere utili alle persone. Infatti questo è un libro di autoaiuto di base, ma io avrei preferito qualcosa di un po' più snello e un po' più focalizzato. Il voto che do a questo libro è un bel sei, una buona sufficienza. Spero che queste mie recensioni ti siano utili per scegliere un libro da leggere o da regalare. Se hai delle domande, se vuoi consigliarmi dei libri da leggere o se hai letto questi libri e vuoi dirmi la tua opinione, lascia un commento. Come sempre mi puoi seguire su Instagram e su Facebook e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!